ciao e benvenuti in questo mio nuovo video oggi giocherò con gabrile al classico ride grazie gabri per il sostegno o però prima di giocare praticamente a ride che voi avete già visto il video praticamente che usavo stecca ora passo al replay grazie gabri per l'incoraggiamento io ringrazio ancora per un'altra volta il famoso youtuber russo che si è iscritto al mio live al mio video aspetta che scrivo un momento dai ora partiamo come vedete qui ho appena iniziato io vi giuro questo video è troppo bello voi dovete ridere dalle risate se ridete ditemelo a me questo video è troppo bello vi prego fate come dice live gabri like e insulbris come ha detto gabri prima mettete like e insulbris li ho schivati tutti ragazzi c'è io c'è questo lo so che questa partita come sapete l'avete già è già è vecchia ma a me piace sempre vederla beh l'ho fatto appena adesso però non muoio dalla voglia di ridere di vederlo di nuovo se non mi voilà bravo al primo eh penserete è un mito è grande molto importante cioè mi siete resi conto che abbiamo scelto dei brawler scarchi per una modalità super difficile la smodata non ce l'ha affatto e devo vedere il cugino spero strano che non abbia ancora filmato me aspetta aspetta lo mette sull'azione dai 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 come avete capito quel brock non c'è più bisogno dato che avete già visto i miei video non c'è più bisogno che mi presenti tanto non c'è più bisogno che mi presenti sapete già il mio nome vero se di no lasciate nei commenti comunque solo da nixotto guarda 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 strano mi siete a prendere oh finalmente una buona volta che mi che mi che mi che mi regista per una volta cioè ho usato brock mi siete resi conto che è nabbo e sono morto ragazzi ve lo non vuoi spoilerare ma questa partita ve lo dico ancora mi è piaciuto un sacco per questo ve la voglio fartela vedere ragazzi aia guarda com'è rischiamita però devo dire che è brava devo proprio dirlo è brava guarda sono sono rinato ragazzi sono rinato avete visto ero rinato e di nuovo sono morto e è rinato l'altro compagno c'è fichissima questa partita e anche bravo questo è il primo l'unico bello che è utile in ride è che ha tanta vita vedi è successo di nuovo mi sono morto come un nabbo ma almeno io ho fatto danno no però siamo veramente resistiti tanto arriva danix arriva il danix guarda li evito tutti ragazzi c'è 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 siamo stati quanto eravamo bravi guarda non abbiamo nemmeno preso un power up e l'abbiamo portato a un livello e abbiamo portato a un livello molto ma molto fuori del 50% il simpatico vedete al 31% lo so mi direte il video dura troppo io mi sto lamentando vedete ho anche perso oh guarda Gabri che bel tizio mi stavo aspettando guarda bene ora cambio brawler che brawler scelgo devo ripensarci no stecca non va bene 8 bit troppo lento mi serve un brawler utile e efficace boh no non ce la facco li devo usare o brock o stecca no brock no brock brock non vedo non muoio dalla voglia guarda che bella skin guarda che gabi se l'hai comprata perché c'è la mega offerta però guarda la mia la mia era ad 80 gemme e la mia 180 l'ho ne approfittato perché era bello ci abbiamo anche una piper cosa voglia o di meglio dalla vita speriamo che avete visto il video che ho fatto ieri sera perché vi dico stavolta non sto mentendo sto usando veramente brock che è anche peggio di stecca in questa modalità quindi dovete morire dalla voglia di guardarlo e come ho già detto like and sub no non lo prende tu peper non lo prende tu ma sei stupida bravo gabri gabri si che è un vero amico con cui si può contare comunque ragazzi se non l'avete capito nel video non l'avete presente ma 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 il robot gigante stecca dico le stesse frasi ve l'ho anche detto nel video commentate commentate quanto volete ma sappiate che io ho ragione guarda l'abbiamo solo forzato al 50% ma come è possibile che tra poco si infiuglia anche ah ragazzi dai che tra poco sta per rinascere e ho dato una super come un idiota commento a voi ragazzi che state guardando questo video che vi piace o rifail vero commentate forse sto dicendo troppo commentate forse dovrei starmene muto ma meglio di no intanto piper c'è morta come vedete c'è scritto alleato sconfitto e se è furioso ah non se la prende con me no non se la prende con me ha detto robottucolo l'hai voluto tu non voglio io non faccio pausa in questo video voglio vedere veramente come va forse è meglio se lo scriveva Gabri che usare 8 bit non era una buona idea shelly mi sembra un'idea migliore è un'idea migliore siacchierone eh scusate un momento ragazzi di tagliare queste immagini perché sennò è troppo noioso ecco ok ho scritto il messaggio ecco ok ho scritto il messaggio ecco ok ho scritto il messaggio guidance rispiegate il perché ragazzi cioè non ha senso e poi Gabby cosa ma è scemo proprio lui che ha quindi 14.000 power esce è così scemo guarda c'è un paio ragazzi quello lì è un caldo è a proposito di Gabby appena ritollato qui deve per forza morirci qualcuno quando rinasce un altro sono un nabbo ho sfiorato il robot ve lo dico io in questa modalità è meglio usare stecca che Brock 100% ve lo consiglio sbaglio o qualcuno non ha ancora preso i power up in questa partita non è normale Gabby meglio non morirci per power up o meglio non morirci se proprio di più gli atti doveva morire io dovevo scombattere il robot ah è arrabbiato che l'abbiamo anche portato all'80 cioè cioè la piper di più ma è più enabba più ci sta giunghi e questa Penny che non sa giocare anche se sta power up pura non ha senso però bravo robottino vieni da tuo padrone vieni da tuo padrone dai Penny io conto su di te allora la star power di la star power allora serve a qualcosa se non abbiamo ancora raccolto un power up in tutti questi tantissimi minuti guarda quanto è ciocca quella Penny per prendere un power up se dai non ce la facciamo mai se siamo qui ancora più nabbi di prima però scusa sentite ragazzi non sta funzionando ditemi che brawler devo usare che è scarsissimo per vincere questa modalità che non sia brawler che noia però scusa seleziono brawler seleziono brawler mi sembra un'ottima idea jesse jesse pevo tua che ti stai ripensando ovviamente gabby gabby sei tu non si capisce non si capisce non si capisce mai niente dai guarda c'abbiamo anche una Shelly con la con la c'abbiamo anche Shelly di stellare che è anche star power up a doppia stella quindi questa volta credo che dovremmo farcela a meno con una Shelly così si è provata del 60% che possiamo vincere la partita e poi 40% boh che nabbo a volte che sono tanto strano che i ragazzi resistono scusa ce l'avete anche qualche power up per me signor un bottone no Shelly quella lì è una che ti vuole tenere le cose per te scommetto vero scrivete nei commenti 60% ed è raviato c'è morta per dei power up mi prendete in giro c'è morta per dei power up e anche la star power più scarsa cioè ritiro ciò che ho detto c'è più probabilità che perdiamo in questa partita e nemmeno l'aiuto di Gabi non serve a niente sì quella Shelly si può avere tutti i power up per te con 139 di vita di Gabi di Gabi io finalmente mi prendo un mio caro power up con un power up non credo che ce la faremo per niente e l'abbiamo solo abbassato del 20% robot rispetto a prima cioè non ci è servito a niente praticamente commetto che questa sfida non la vincerò mai se dai però così non porta doppio contattacco volevi ma hai detto roba giusto bro che fortuna che a me o ci abbiamo shelly shelly stellare con una star power ora ti lo so che ho detto ancora ancora 30 di nuovo come prima oh guarda gabriele si è vinto di essere stecca perché volevo invitarmi come il mio viso guardo che bravo che l'hai guardato ciao do not run away do not run away do not run away guarda ci abbiamo anche leon pensa speriamo che stavola ci vada meglio e che gabrie non continui a continuare ancora casini che di ora ne ha fatti abbastanza e soprattutto che questo leon sia un bravo leon che anche sta power up non mi prendi robottone questo video più che essere ispirato a me doveva essere ispirato a gabrie visto che per quanto è scemo ea scusa ragazzi scusa ragazzi non volevo scusa gravi si sta ascoltando questo video puoi scusarmi però stai facendo delle mosse che non sono normali ti comporti pinabbo nel solito tutto qui volevo dire non ti offendere gabrie non ti offendere ma che cosa sta matendo guarda sta matendo non voglio essere sdolcinato ma mi sono scusato mi dispiace ancora guarda ragazzi come io andiamo a nessuna parte guarda stai facendo mi scuso ancora ma è comunque io lo stiamo distruggendo gabrie non ha fatto una brutta scelta con stecca devo dire che è molto utile bravo gabrie bravo molto bravo ovviamente scegli un brawler decente dai andiamo mi scuso ancora chissà chissà quanto per le lunghe deve ancora continuare questa storia esercito di robot questa è la fine è la fine io non ti perdonerò mai abbastanza gabrie così non finisco per una volta di rovinarvi il video a proposito di gabrie guarda che lì che combatte come un vero alleato guarda quanto bravo bravo siamo rimasti ultimi io conto su di te gravi che sei un grande pro non ho parole veramente no guarda che fai qua con le mie cattivine sicuro scusate ragazzi se non sto parlando ma non so ma una brutta notizia non so come tagliare un'immagine dopo aver fatto il video bello a tutti i polli i polletti sono io il cicciovello forse cicciovello sono un po' male ma comunque sono io era uno scherzo ragazzi sto prendendo in giro gabrie era assolutamente online questo spiega i rumori e quelli che stava facendo tutte tutte le volte che stavo facendo il video mi scuso non voglio continuare questa storia scusate speriamo che l'abbia sperato ora che io ho anche mandato il messaggio lasciamo fede ragazzi io finisco il video ciao speriamo che gabrie no vado cos'è no vado non vado espegalo che gabille va